Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle gare malate Siamo in una gara con le auto super, con Zentorno, Entity, Adder, chi ne ha più chi ne metta Io ho preso la mia super Entity, potenziata al massimo, la gente che mi butta per aria ragazzi, incredibile Un inizio gara fantastico, ultimo sono Cioè ragazzi ditemi voi ma io ho ribaltato la situazione, sono primo adesso Ero ultimo invece adesso sono primo, in un secondo guardate un po' il risultato Ma guardatelo dopo, andatemi retta Allora vediamo un po', attenzione, prendiamo questi checkpoint Dai ragazzi, dai 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 che siamo veramente in prima posizione Allora il titolo di questa gara vediamo un po' com'è Vertical Wild Ride, sicuramente ci sarà un Wild Ride Ah eccolo lì, buon perfetto Anche se non guardavo comunque il titolo, lo capivo lo stesso adesso Perfetto ragazzi, primo lancio a vuoto Riproviamoci, attenzione, vediamo un po' Allora cerchiamo di prendere il container, perfetto Secondo tentativo, niente per poco ragazzi eh Per poco ma pian piano si migliora E quindi, terzo tentativo Oddio, ma che cazzo è? Come mai ragazzi sono spawnato lì? Non lo so Allora il checkpoint l'avevo preso Oddio ragazzi, non me ne ero accorto Allora il checkpoint mi sa che l'avevo preso Però ragazzi, sinceramente non avevo visto il checkpoint Sinceramente era invisibile Boh, o sono io che non l'ho visto Vabbè ragazzi, meglio così Allora, perfetto Vedo già l'ultimo checkpoint Bene ragazzi, perfetto Va bene così L'ultimo checkpoint lì sono secondo ragazzi Addirittura primo Non ci posso credere Non ci posso credere Veramente una cosa fantastica Roba mai successa in vita mia Arrivare primo In otto giocatori Facendo rampe simile a un wild ride o loops Ragazzi, sì, sono arrivato primo Seconda gara di oggi Allora, vediamo un po' Incredibile ragazzi Partiamo in acqua Una cosa devastante ragazzi Incredibile Ma come faccio a partire? Cioè come si parte in acqua ragazzi? Incredibile Dobbiamo spawnare per forza Ma questa gara è impossibile Cioè Oddio Cioè in continuazione Cosa succede ragazzi? Continuiamo in acqua Oddio Volevo avvisarvi che questa gara Se non quitti è interminabile Perché in questo posto dove sono io Praticamente c'è una porta aerei E con nuovo aggiornamento ragazzi Ed hanno patchata Quindi ne hanno tolta E quindi ragazzi Anche nelle gare Non è più utilizzabile la porta aerei Come vedete ragazzi Invece che la porta aerei Adesso ci sta vuoto Quindi cadiamo nel mare E ragazzi Come vedete Continuiamo a morire E la gara è interminabile Quindi Non ci resta che Aprire il telefono Velocemente Quadrato X Per uscire Vieni ragazzi E spero che questo video Vi sia piaciuto Lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale E da Orco Verde è tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao